Giornata della creatività, primo giorno, siamo con Antonio Federico, responsabile dell'Accademia del Pumetano, che è direttore artistico della nostra mostra, Antonio. A profusione di questa giornata che pensi? Che siamo stanchi? Ma siamo molto felici perché abbiamo visto veramente grande partecipazione del pubblico qui di merito e quindi siamo speranzosi, qualcosa si muove. Abbiamo ancora l'opera, nonostante l'ora tarda, vogliamo portare un'ora e mezza, ancora Paspartout, sia con la sua arte e anche con delle ottime spiegazioni, non solo di carattere tuttore ma anche e soprattutto di carattere tecnico. Una battuta? Felicissimo di esserci, come i corridori che dicono sono contento di essere arrivato un e quindi ringraziamo a voi per il pensiero e per essere stati qui con noi e ci aspettiamo altrettanto partecipazione anche domani.